ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di andrea pezzoccoli e oggi siamo qui su un altro episodio di clash royale ieri ho perso la partita stamattina prima di registrare questo video ho fatto due partite e le ho vinte e soprattutto ho trovato il baule magico tanta roba usiamo questo mazzo e si parte subito vi invito a lasciare come sempre un bel like uno di livello 7 bastardo ha messo subito dio di troia bastardo metterò anche io il domatore gli spiritali del sud ok adesso facciamo un attacco con solo sgherri quindi orda di sgherri e sgherri ok vediamo che cazzo salta fuori vabbè ce l'ha ammazzata la parte ma vai cazzo madonna 200 di vita portano ma mamma 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 Porca di una puttana schifosa, la madonna, ma fai giugare in sedi, io, da la, natra, la buona, ma va qua non vinciamo più, c'è duecento di beta, ma dove siamo? Bene, questi più questi, e anche più la valchiria mettiamo, o il domatore, dovremo farcela, dovremo farcela prendere la torre, si ce la facciamo, perfetto, mettiamo anche questi, mettiamo gli spiritelli del fuoco, perfetto, questi, questi qua anche per abbellire un po', ok, domatore, orda di scheletri, spiritelli del fuoco, ci stanno, ci stanno, ci stanno, valchiria, sgherri, un bel domatore di qua, orda di scheletri di qui, spiritelli del fuoco, e qui ragazzi la partita la perdiamo, dio porca troia, vacca, e anche questa abbiamo perso, non c'è niente da fare, io quando registro un video, devo sempre perdere la partita, ma sempre, quando registro il video, ma sempre, porca di quella, madonna, ah ho comprato la veleno, anzi l'ho bloccata, e niente, lo aprirò con voi, questo baule lo aprirò con voi, sì, il baule magico lo aprirò con voi, spero di trovare, perché trovo due etiche, quindi spero di trovare, almeno la tornado, perché la voglio, o una leggendare, allora per questo video può essere tutto, lasciate un bel like, scrivete qua sotto nei commenti se avete qualcosa da scrivere, e lì, ciao gente!